e già tra le auto sacrificate sull'altare della quarantena c'è anche mini elettrica avremmo dovuto infatti provarla in un evento a rimini evento che poi è saltato proprio in quei giorni in cui si è iniziato a vietare raduni assemblamenti e situazioni di questo tipo mini comunque è andata avanti ha presentato l'auto tramite un evento online ed eccola qui se da un lato è la stessa mini di sempre quindi quella cui siamo abituati dall'altro è anche il modello che traghetterà il marchio da questa generazione infatti rimane un'auto di questa generazione anche come pianale alla successiva dall'altro però cambia tantissimo perché per trasformarla mini ha dovuto lavorare tanto nello specifico doveva inserire un pacco batterie senza intaccare lo spazio a bordo con quei classici scomodi tunnel oppure senza alterare la capacità del bagagliaio così gli interni restano gli stessi stesse dimensioni stessa qualità seppur con qualche novità tecnologica infatti la batteria trova posto sotto al pianale ha una forma t in pratica se scavata spazio nell'architettura 28 kilowattora di capacità utilizzabile e poco più di 32 lordi con il classico cuscinetto che serve per non stressare troppo la batteria e per allungarne la sua vita utile sempre in tema di stress la scelta è stata quella di limitare la ricarica rapida a 50 kilowatt preferendo quindi non puntare ai 100 come altri modelli in corrente alternata arrivate a 11 kilowatt dalle colonnine ma ricordatevi che se andate a caricare da casa senza la wall box avete massimo 10 ampere per capire comunque tutti questi dati clic nella scheda in descrizione dove ci sono tempi e costi della ricarica delle auto elettriche nelle nostre pillole per questa mini la ricarica rapida all'80 per cento si fa in poco più di mezz'ora 36 minuti al dichiarato dalla colonnina qui sorge un dubbio perché limitare la potenza in corrente continua quindi nella ricarica rapida potrebbe significare un sistema di raffreddamento che a sua volta limitato sulla mini elettrica non vi preoccupate perché la climatizzazione della batteria c'è e presente ma le sue prestazioni le potremo scoprire solamente con la prova diversi scenari diversi viaggi per il resto la ricetta è comunque interessante dato che all'insegna del full full led fuori full optional dentro il motore lo conosciamo già è quello della i3s 135 kilowatt di potenza e 270 newton per metro di coppia 150 all'ora in città poco più di 7 secondi nello zero a centro bari centro basso che dovrebbe assicurarci quel go kart feeling nonostante però l'auto sia in realtà più alta rispetto all'equivalente a benzina proprio per far spazio al pacco batterie mini ci parla anche di un controllo di trazione che dovrà essere messo alla prova per vedere se manterrà le promesse di mini e di divertimento alla guida di go kart feeling insomma se i tecnici saranno riusciti nell'impresa mi aspetto analizzando proprio i dati sulla carta l'annullamento del torque steering che magari su qualche elettrica è presente proprio perché si scarica istantaneamente una coppia importante sulle ruote di trazione anteriore associato però ad uno scatto brillante sarà davvero così lo scopriremo presto spero parliamo dei numeri le misure di questa mini elettrica sono di 3,84 metri per 1,73 per 1,43 circa i dati precisi comunque li trovate nel link in descrizione bagagliaio da 211 a 731 litri e un peso 1365 kg che è molto interessante per un'elettrica perché non va a differire troppo dalla cooper tradizionale e in questo è un fattore davvero importante entriamo virtualmente nell'abitacolo beh la qualità dei materiali è sicuramente di livello abbastanza alto e ci aspettiamo sensazioni simili al modello a benzina anche perché le parti utilizzate sono praticamente le stesse la novità è la strumentazione digitale con tutte le informazioni che possono essere utili a chi guida elettrico ricarica potenze eccetera eccetera l'infotainment carplay wireless 5 oppure 8 pollici per lo schermo connesso con l'app che si gestisce tramite cellulare e soprattutto integrato con il database delle colonnine cosa mi piace quindi beh mi piace la guida ad un pedale attivabile o disattivabile tramite un tasto separato quindi indipendentemente dalle quattro modalità di guida che ci offre l'auto e chi utilizza un'auto elettrica apprezzerà sicuramente questo aspetto peccato che non ci siano gli adas almeno quelli più evoluti non c'è la guida semi autonoma ma c'è una frenata automatica d'emergenza insomma tra adas tra dimensioni tra autonomia tutto ci fa capire che questa mini elettrica mini cooper se è un'auto pensata per la città o per chi viaggia tra città ed extraurbano a compensare però c'è una dotazione con climatizzatore b-zona due usb ricarica wireless per lo smartphone i sedili riscaldati il keyless per l'accensione l'ingresso e la retrocamera insomma la base che ci si aspetterebbe oggi nel 2020 da un'auto premium moderna gli optional non ci sono o meglio quei pochissimi pochissimi che ci sono sono legati al livello di allestimento che voi andrete a scegliere dalla S alla XL come le taglie prezzo 33.900 euro senza gli incentivi quindi da applicare con la possibilità di prenotare l'auto dal 9 luglio a 500 euro di anticipo e il configuratore è già disponibile sul sito ufficiale quali le conclusioni quindi beh mi posso basare su conclusioni sulla carta in attesa della prova mini è sicuramente interessante ma ha luce ed ombre se da un lato è ottima la scelta di limitare il peso tenendosi vicini alla versione tradizionale in questo restituire secondo le promesse lo stesso feeling di guida le stesse sensazioni che contraddistinguono mini e se non avete mai guidato una mini è difficile che lo capiate infatti vi consiglio una prova anche della versione benzina dall'altro l'autonomia è sicuramente sacrificata però se potete ricaricare o a casa o con una colonnina comoda vi spostate in città o nell'interland non fate mai viaggi troppo lunghi intendo più di 300 400 chilometri beh allora potrebbe fare per voi magari considerando che sfruttando incentivi il prezzo scende tanto e potrebbe essere interessante se consideriamo qualità dotazione il fatto che si tratta di un'auto premium con questo è tutto se avete domande ovviamente lo spazio nei commenti è a vostra disposizione in descrizione nel primo commento ci sono tutti i link utili per approfondire luigi merita per hd motori ciao